Potere di uno stop. La sconfitta di Sesto Fiorentino ha allontanato nuovamente il Valdarno insieme dai pre-off, visto che a differenza delle ultime settimane, la davanti si sono poi mosse tutte. Come imperventivabile, d'altro canto, quello 0-3, giocato però ad ogni set fino al punto a punto, non ha neppure compromesso la classifica delle Rosso-Blu, il cui vantaggio sulla quarta ultima. Adesso la Fiorentina rinascita rimane di 12 punti, ovvero 4 gare, con all'orizzonte l'impegno interno contro la capolista Cecina, che sempre 3-0 vinse anche il match di andata. in una quarta giornata peraltro, nella quale ancora la giusta dimensione delle Montevarchini non era nota. Michela Bugliatti, alzatrice classe 91 al capitano delle Livornesi, che poi si affidano ai martelli Ilenia Cecchi e Diana Nelli per mettere palloni a terra. Cecina, peraltro, è reduce da 10 vittorie nelle ultime 11 uscite, con la sconfitta di Terni, che peraltro due settimane fa ha comunque portato 2-7, soprattutto un punto in classifica. Alle ragazze di Brazzini il difficilissimo compito di abbassare tale score. Grazie. 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 Grazie.